Seduta e invariata per piazza affari, mentre si muovono in calo le principali borse europee e scambiano in territorio negativo In buona evidenza a Milano il comparto vendite al dettaglio, più 2,30%. Nel listino, troviamo tra i più venduti il settore sanitario, meno 1,51% Balza in alto lo spread, posizionandosi a più 200 punti, con il rendimento del BTP decennale pari al 4,82% Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso, annunciato il dato sull'indice ISEF della Germania, pari a meno 1,1 punti È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia delle vendite al dettaglio, che della produzione industriale. È previsto domani dall'Unione Europea l'annuncio dei prezzi al consumo Grazie a tutti